Salve a tutti. A causa del poco tempo a mia disposizione, ultimamente non avevo potuto registrare griffate. Stamattina quindi avevo pensato di farne una per non andare fuori allenamento, ma la sfiga mi ha davvero perseguitato, costringendomi a interrompere tutto proprio sul più bello. Ho comunque registrato un paio di azioni che vi mostrerò qui, fatte prima che al successivo login questo dannato server mi facesse fuori tutto l'inventario che vedete nella foto qui mostrata, e che mi ero fatto per provare le tecniche anti-boot kit. Poi dopo vedrete il motivo del titolo di questo video, che ho deciso comunque di caricare su YouTube solo per ringraziare il mio primo fan che mi ha riconosciuto in una griffata e per mostrare la prima esecuzione di una di queste tecniche in un server non mio. Per quanto riguarda la grafica del video, visto che la moda delle ombre non è ancora uscita per la versione 1.2.4, userò solo la texture pack. In questo server il fuoco era disabilitato e la TNT era utilizzabile solo dagli admin. La prima cosa che dovete fare, se volete usare l'anti-boot kit sulle zone protette, senza rischiare di farvi beccare, è creare un diversivo distante dal vostro bersaglio verso cui attirare gli amministratori. Questa tecnica funziona sempre, a patto che non ci siano plugin di log tipo Big Brother. In tal caso è da evitare. Qui ho colpito due case vicino allo spam con semplice acqua per poi passare all'azione. L'unica struttura protetta che sono riuscito a griffare prima di slogarmi a causa di un problema che ho avuto nella vita reale è stata questa sfera di vetro. Userò questo breve video per mostrarvi come, anche in un server piccolo, le tecniche anti-boot kit possano essere utili e facili da eseguire. Ora che gli admin sono dall'altra parte del server dove sono le case allagate, potrò agire indisturbato. Se studiate bene l'ordine delle griffate, potete attirarli dove volete. Voi mi direte, ma piazzare pochi blocchi così non è griffing. Beh, dipende dalle situazioni. Questa struttura è protetta. Immaginate quanto si incazzerà la domain vedendo che il suo board guard è inutile. Ovviamente dovete far sparire il pistone se volete che ci caschi. Diverse ore dopo ritrovo il server nelle stesse condizioni in cui l'avevo lasciato, ma che vuole questo? Oddio. Un mio fan. Forse con tutta la sfiga che ho avuto oggi qualcosa di buono riuscirò a cavare. Come vedete, per qualche stupida impostazione di questo server, ho perso tutto l'inventario. Vediamo se lui ha qualcosa. Maledizione non ha nulla. Decidiamo quindi di allearci per recuperare altra roba e far fuori questo posto. Comunicheremo in italiano per non farci capire dagli americani di questo server, e intanto vedo che un mod sta piazzando TNT sotto la strada. Altri griffing in giro, sto guarda. Lo stronzetto di prima che è online da stamattina con la carica di admin, e che griffa solo adesso quando in America è notte fonda, mi accusa di griffing. Guardate come l'ho smerdato. Poco dopo arriva anche l'admin capo del server. Il nostro collega gli avrà sicuramente esposto le accuse contro di me per pararsi il culo, questa è una guerra fraterna. Oddio ha messo pure il cartello con la mia firma. Stavolta gliela combino. Caro Buchiel 2, devi farne ancora tanta di strada per cercare di fregarmi. Mi è bastato far notare al tuo superiore che chi aveva griffato aveva usato la TNT, per farmi un alibi di ferro. E quali sono gli unici utenti che possono usare la TNT in questo server? Ah già, gli admin. Anche perché non ci sono creeper in giro coi mobostili disabilitati. Oltre al capo quale altro addomine online ora? Bravo coglionazzo. Devi ringraziare che questo server è governato da un deficiente, altrimenti avresti già il bani in mezzo alle chiappe. Alla fine quindi Buchiel e i suoi amichetti sono riusciti a demolire il server a colpi di esplosivo, lasciando poca trippa a noi che non avevamo loro stessi poteri. Spero comunque che con questo video facciate la figura da cioccolatai che vi siete cercati. Con questo chiudo, arrivederci alla prossima.